Ricorda che tuo figlio non è merce di scambio in favore del mantenimento. Spesso capita che il genitore collocatario minacci di non far vedere il figlio all'altro genitore se non gli paga il mantenimento o quella determinata spesa straordinaria o meno che sia, magari nemmeno concordata. Ricordati che in questo modo il male però lo fa al tuo figlio che, più che al tuo ex o alla tua ex, e potresti avere delle conseguenze spiacevoli in tribunale.